Ciao Cecilia, buongiorno. Grazie di aver deciso di farti questa chiacchierata con me, dedicarmi una parte del tuo tempo. Tu sei una delle più grandi influencer di TikTok, sei un'autorità per i tuoi... Beh sì, per i ragazzi dai 14 anni in avanti, diciamola così, rimaniamo all'interno di quelli che sono i permessi di TikTok. Raccontami un po', com'è che sei diventata una... Come vuoi che ti chiami, un influencer, una creator? Guarda, a me piace di più creator, perché influencer diciamo lo associo più forse al fatto magari di vendere un prodotto o comunque sponsorizzare un prodotto, visto che io di sponsor, cioè non sono proprio la queen delle sponsor, sono più... Per ora. Per ora, sì. Sono più una content creator, che detto in inglese sembra un lavoro, vabbè scherzo. E ho iniziato due anni fa e per gioco assolutamente non avevo... Diciamo, non sono partita dicendo ok, adesso farò questo percorso, ho intenzione di seguire queste tappe per riuscire a raggiungere un obiettivo. È stato talmente casuale, mi ricordo ancora che era Santo Stefano, io avevo la febbra, ero a casa, mi annoiavo e mi sono messa a fare i video dentro casa. E ti sei creata una professione praticamente, perché in realtà lo è. Involontariamente, sì sì, è una professione. Adesso sì, inizialmente no, perché non c'erano i presupposti, i numeri, niente per poterci vivere, però adesso sì. Quanti anni hai? Perché hai detto che hai iniziato due anni fa, ma sei giovanissima. Sì, io ho 21. 21, quindi hai iniziato a 19? Sì, sì, ho iniziato a 19. Ma sei partita a fare la content creator a 19, ma prima ho letto un po' la tua storia, facevi già, diciamo, musica? O ti lanciavi un po' in questo settore? Sì, sì, facevo comunque, scrivevo canzoni, suonavo, cantavo, però non avevo mai pensato di farlo, cioè di provare magari a, passando per i social, farlo di lavoro, perché comunque i social sono un bel trampolino di lancio, ti possono aiutare tantissimo su certe cose che magari sembrano molto più complicate prima di farle, cioè adesso mi risulta magari più semplice arrivare a certi risultati, perché ho un tramite comodo, diciamo, che magari sono riuscita a costruirmi, però prima non sapevo dove iniziare, perché adesso che fai? Fai un talent? Che puoi fare se vuoi cantare comunque? Però tu hai 3 milioni di follower, se non sbaglio, o ne hai accumulati degli altri da quanto guardate oggi? No, 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 sono quasi 3 milioni, 2 milioni e 8 su TikTok e un milione passa su Instagram. Sono tantissimi, ma tu te l'aspettavi un successo di questo genere, tenuto conto un po' che hai iniziato un po' per casa, come dicevi tu in un giorno? No, guarda, assolutamente no, hai iniziato tutto per gioco, non mi aspettavo soprattutto che continuasse così tanto, perché ovviamente io sono una persona molto oggettiva, bisogna rendersi conto del, diciamo, del fatto che esistono le gomete, cioè nel senso può succedere una cosa bella, ma a un certo punto ha una fine, nel senso pensavo che questa crescita sarebbe durata un paio di mesi, magari puoi avere fortuna e crescere, ma a un certo punto non può essere esponenziale, sempre in crescita, si deve fermare. Invece in due anni è diventata una costante, c'è una crescita costante, quindi il grafico è così in salita da due anni, infatti sto aspettando il botto. Ma no, figura, ti vuol dire che sei brava, anzi io ti volevo chiedere anche questa cosa, io vedo che più o meno pubblichi dei video quotidiani, dei contenuti, chiamiamoli così, come ti vengono tutte queste idee? Va bene che sei giovane, fresca, hai un sacco di entusiasmo, però... Guarda, allora, io mi baso sulle cose che mi succedono semplicemente, poi soprattutto sono una persona molto ironica, io, mia madre, le persone di cui mi circondo, quindi è facile che si creino situazioni in cui ridiamo magari di qualcosa che capita, semplicemente quello che succede lo riporto nel video, magari tanti video nascono veramente da una conversazione reale, avuta con mia madre in macchina, mentre mi stava accompagnando a qualche parte, e semplicemente riporto quello che abbiamo detto. Quindi in maniera abbastanza naturale, ti viene naturale? È brava anche tua madre comunque che partecipa, e l'ho salutata prima, lo dico a voi ragazzi, che sono riuscita a vederla con un agile spostamento della webcam. Lei ho visto che partecipa con te, quindi sicuramente sarò orgogliosissima di quello che sei riuscita a tirare su, perché avere tanti follower così, se mi permetti la battuta, superi anche parecchi politici, quindi veramente hai un'influenza oggettivamente molto forte. Guarda, una cosa molto positiva è che di solito quando io ho iniziato, in un periodo in cui stavo anche studiando, quindi dovevo impegnarmi molto con lo studio, cioè riuscire a bilanciare le due cose, era agli inizi e mi ricordo ancora che dissi a mia madre, no sai, mi ha aperto questo profilo, è successo che in pochi giorni ho fatto 10.000 follower, che erano tanti comunque per me, considerando che non facevo questo, cioè dal nulla, e piuttosto che dirmi, ma che stai a fa' la finita, cioè i miei genitori mi hanno stimolata, mi hanno detto, no continua, coltiva questa cosa, è una forma di espressione molto bella, l'hai sempre fatti, i video, continua, continua, il fatto di avere comunque i genitori dalla tua, che ti danno anche i consigli, idee per i video, è proprio tutto un altro mondo, dal momento in cui un genitore rema contro di te, è complicato fare le cose, perché sei demotivato, invece mi hanno sempre motivata. Beh, sono comunque dei grandi, se mi passi il termine, perché è difficile riuscire a capire che c'è un potenziale incredibile, che tu sei riuscita poi mano a mano a raggiungerli, però credere non è sempre scontato, io penso almeno anche all'esperienza personale, quando chiesi a mia madre, mamma vorrei fare il liceo artistico, diciamo che non ha sostenuto la mia passione, e mi ha indirittata. No, no, anch'io ho fatto l'artistico, quindi ti capisco, perfettamente. No, ma mi ha indirittata verso il liceo, vedi, invece tu sei stata sostenuta, io ho fatto l'izio scientifico, ovviamente, quindi... No, ho fatto l'artistico, perché mia mamma è un'artista, anche lei, comunque fa la pettrice, l'artista, tutto quanto. Mio padre fa il direttore della fotografia, è cameraman, quindi sulla parte dei video, era contento che io riprendessi, registrassi, facessi cose, quindi tutti, mamma ha lavorato anche nel mondo dello spettacolo, quindi avevano anche lavorato nel settore, perciò erano fomentati. Quindi hai un supporto che è emotivo, perché sei la figlia, ma anche tecnico, perché puoi riuscire a farsi anche delle foto che sono le tue le viste, sono bellissime, i video sono ironici, sono simpatici, per cui, cioè, si vede che c'è della regia dietro, che non sono campati completamente in aria. Sì, sì, mi danno molto una mano. E loro non hanno, visto che è un po' il tema che volevo affrontare con te, quello, diciamo, dei minori, più che dei minori, dei ragazzi molto giovani all'interno di canali come TikTok. Oggi sappiamo che c'è un po' un allarme, diciamo, sociale, rischio delle challenge, del fatto che le ragazzine postino dei video di cui magari non hanno contezza degli effetti a cascata negli anni, da lì ad anni dopo, perché poi ti trovi quando avrai 30, 40 anni ad andare a chiedere un posto di lavoro, nel momento in cui dai un'immagine di quel genere, posti un video particolare, diciamo così, in desabie all'interno di certi canali, rimangono e poi i datori di lavoro vanno a vedere e rischi un po' di avere un danno all'immagine. Loro hanno avuto dei timori su questo rispetto all'utilizzo da parte tua, dei social, ti hanno seguita, immagino, anche in quel campo? Guarda, sì, sì, allora, io sono stata molto seguita da più piccola sui social, in senso, i miei non sono stati quei tipi di genitori che mi hanno preso subito il telefono, hanno detto, vai, fatti Instagram, creati un profilo su Facebook, fai come vuoi, no, sono stata abbastanza seguita, e comunque, sono sempre stata molto responsabile come bambina, dicevo subito tutto ai miei, se c'era un messaggio che non mi piaceva molto, la prima cosa che facevo era sempre dirlo a mia mamma o a mio padre, che andavano a controllare, insomma, a mia mamma. Ecco, a te capita, visto che sei famosissima, comunque tre milioni di follower, ti capiterà di ricevere messaggi, sì, poco graditi, diciamo, di complimenti non proprio apprezzati, perché poi il confine tra il complimento, la molestia è molto seguita, esatto, la molestia è veramente abbastanza labile, tu in questi casi come, più che come ti comporti, che consiglio ti senti di dare a una ragazzina che, tra i, verso i 16 anni decide di iscriversi a TikTok, che va incontro, ad un mondo che è vero che è per ragazzi, ma rischia anche di trovare all'interno, come il mondo reale, non ci sono realtà splendide come la tua, ci sono, diciamo, orchi, per definirla in maniera polarizzata, no? Sì, è l'altra faccia della medaglia, può essere veramente un posto scuro e cupo, esatto, il web. Il consiglio che io do è che, finché uno non è comunque maggiorenne, è in grado di gestire queste cose, cioè adesso ovviamente se mi viene a scrivere un tizio X, un messaggio magari poco carino, non è che vado a mia madre disperata, chiedendola una mano, ovviamente sono grande, riesco a gestirmelo, però bisogna sempre parlare con i genitori, tenerli al corrente delle cose che capitano, perché quello che per noi può sembrare una stupidaggine, magari dall'altra, tu non sai mai chi c'è dall'altra parte, sembra banale, però bisogna sottolinearlo, perché, cioè, sei una, insomma, il, 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 tua madre sicuramente ti vuole tutelare, ti vuole solo aiutare, quindi dal momento in cui devi dirlo a qualcuno, dillo sicuramente a un genitore, o chi ne fa le vici, un professore, qualcuno di cui ti fidi, perché le intenzioni non sono buone tante volte, e magari non ce ne rendiamo conto perché siamo piccoli, quindi mai fidarsi di chi soprattutto ti chiede foto, cose, cioè, le cose più losche sono le foto, gli incontri, che finché sei piccolo non riesci magari a capire la gravità della situazione, un adulto si rende conto che non è normale che uno sconosciuto chieda a un bambino di vedersi o delle foto. Cioè, ecco, sono cose che capitano, perché io per esempio, sì, adesso ce l'ho un canale TikTok da poco, però chiaramente avendo 40 anni ricevo un po' meno richieste di questo tipo, ma immagino che sia anche un rischio per una ragazza molto piccola, no, che ti possano richiedere, foto, incontri, e quindi diventa un po' un tema anche di gestione sociale di un rischio per i ragazzi, anche perché ne abbiamo parlato prima di iniziare la chiacchierata informale, sappiamo che c'è il limite di iscrizione per l'età, però a volte certi genitori, ma anche ingenuamente per andare incontro ai figli, ci permettono con il proprio account di andare a vedere, e poi, insomma, è un secondo che si espone ai propri chiari rischi, sì, si sottovaluta. Sottovalutano magari la gravità, borsa della situazione, ma non bisogna stare con il panico, cioè non bisogna, secondo me è anche sbagliato, vietare ai figli di utilizzare determinate applicazioni, perché, per dire, vai in classe, tutti hanno TikTok, tu sei l'unico che non ce l'ha, alla fine diventi, cioè il bambino magari, però neanche un uso spropositato, cioè smutato dell'applicazione, perché è sbagliato anche quello, sempre la via di mezzo, sempre tutelare, controllare, e da parte del genitore ci deve essere sempre una tutela, e da parte del bambino sempre, diciamo, anche il coraggio, perché ci vuole un po' di coraggio a volte a dire ai genitori quello che succede, perché ti vergogni magari, però bisogna sempre parlarne. Io devo dire che sui divieti non sono una grande appassionata, perché penso che principalmente dovremmo spingere un ragazzino a fidarsi dei genitori, non imporre un divieto come adulti, quello che mi ha sempre colpito del nostro paese, che c'è scritto dappertutto, è se veramente vietato, perché se vietato e basta lo devo fare, invece se più vietato dovrei essere maggiormente in timorità, perché è severo, è cattivo. Ma i miei, guarda, neanche loro sono grandi fan dei divieti, però non ce ne sono mai, cioè non ho mai avuto bisogno di sentirmi dire, questo non lo devi fare, cioè sono riuscita a sviluppare un pensiero critico, diciamo, cioè capacità di giudizio anche da piccola, quindi mi rendevo conto se una cosa era giusta o sbagliata, non c'era bisogno di mi dicessero, questo non lo devi fare, cioè io ti ho cercato di insegnare a capire come funziona un po' il mondo, vedi tu e giudica se è una cosa giusta o sbagliata. Certo. Senti, le ragazze che hanno, le persone che hanno tanti follower quanti te, hanno un po' un peso di responsabilità, dal mio punto di vista addosso, in senso positivo, un bellissimo onore, anche un po' un honor, perché chiaramente se tu dai un messaggio, che può essere interpretato in maniera sbagliata dalle ragazze che ti seguono, un po' c'è il rischio, che poi le conseguenze siano quelle che non ti aspetti, tu questo senso di responsabilità un po' te lo senti quando fai video, oppure proprio in totale allegria e tranquillità come mi hai detto prima, cioè ogni tanto ti poni un po', immagino. Inizialmente ovviamente no perché il pubblico era minore e ovviamente dal momento in cui si ingrandisce il pubblico sono più target, quindi tu non stai parlando di bambini, stai parlando di bambini, adulti, ragazzi della tua età, perciò deve essere un linguaggio universale che devono capire tutti, però più che usare un linguaggio universale, io penso sempre, quello che sto per dire può offendere qualcuno, c'è una categoria di persone, una persona in particolare che può essere offesa, evito sempre di dire cose che possono risultare offensive, e infatti normalmente me la passo abbastanza bene con gli haters perché ne ho pochi, perché non me la cerco molto, è fortunata? Sono fortunissima! Non me la cerco tanto, prendo posizione sempre però in maniera educata, cercando di non essere, cioè non mi serve di mettere i piedi in testa a nessuno, di farmi notare utilizzando termini scorretti, mi piace stare nel mio, dire come la penso, ma comodamente nel mio amico. No, con molta eleganza, se mi permetti di dirtelo. Esatto, con molta eleganza. Con molta eleganza, la classe non è acqua, non è facile essere una creator e riuscire a mantenere un profilo di eleganza, perché poi è veramente un secondo, magari per aumentare il follow, le interazioni, provare a lanciarsi. Sì, sì, sì. È vero. Ho sempre pensato che preferisco che una persona mi segua perché ha piacere a seguirmi, è interessata a quello che dico, o magari si diverte piuttosto a seguirmi perché sono la ragazza di quello, perché ho litigato con quell'altro. Cioè, è una fama finta quella. Quanto può interessare, per quanto tempo quella persona può essere interessata al fatto che tu hai litigato pubblicamente o hai detto una cretinata gigantesca sulle storie solo per salire di numeri. Certo, di like. Si stufano a un certo punto le persone. Eh, ci credo. Invece, senti, ritornando un po' al tema delle challenge, c'è stato un po' un periodo nel quale si è alzata tanto l'attenzione, in particolare sulle challenge, quelle un po' più estreme, diciamo, che spingono i ragazzi a fare queste prove grandissime. Io so che anche in Parlamento il problema è arrivato, c'è stato qualche deposito di proposte di legge in questo senso. Tu, dall'altro lato, la vivi dal lato di chi vive questi canali tutti i giorni ed è un lato positivo di questi canali. Che cosa ti senti di dire a chi come me rappresenta le istituzioni e deve provare anche a gestire un fenomeno di questo tipo, un'attenzione, se ha senso effettivamente affrontare la questione, se secondo te si può gestire più sensibilizzando i ragazzi tramite gli influencer e i creator. Che idea ti sei fatta su questo? Oppure tu hai mai fatto dei video, su questo confesso la mia ignoranza, non li ho seguiti tutti perché ne hai fatto... Non ti preoccupare, guarda, hanno fatto realmente tanti che penso neanche mia madre li abbia seguiti tutti. Sono veramente tanti. Ne hai mai fatto qualcuno proprio su questo per riuscire a sensibilizzare i ragazzi e dirgli fate occhio a dove vi andate ad infilare rispetto a certe situazioni, perché è chiaro che uno magari da ragazzo ci si infila con questa necessità, soprattutto dopo questo anno difficile, complicato, nel quale si ha bisogno di sentire, di provare emozioni, se c'è l'età, e ha anche emozioni forti, il rischio di finire, diciamo, in un esito tutt'altro che positivo, ma anzi abbiamo visto casi di ragazzi che hanno finito per sottocarsi da soli, è drammatico, veramente bruttissimo. Allora, secondo me, come ti ho detto prima, il web può essere un posto meraviglioso e può essere il peggiore dei posti. è un mezzo e ovviamente è come lo usi che fa la differenza, perché è in base a chi è in mano, ovviamente cambia l'utilizzo che tu ne fai. Io, per esempio, faccio un utilizzo sano del social, non è tutta la mia vita, in senso non è limitante per me, è qualcosa in più, che non, diciamo, esco comunque con i miei amici o comunque con la mia vita o comunque con il mio modo di pensare che non è condizione da quello. però bisognerebbe, secondo me, sensibilizzare proprio attraverso magari chi fa, cioè, chi dei social ne fa un uso positivo, non dico me, però tantissime persone che utilizzano i social e sono influencer, creator, ne fanno un uso buono, dovrebbero, secondo me, diffondere, veicolare il messaggio comunque per appunto sensibilizzare le persone che invece ci si un po' infognano, perché il problema, secondo me, queste cose delle challenge che ti portano addirittura a arrivare a fare dei gesti folli come quelli di soffocarsi o qualsiasi altra cosa così estrema, è che le persone perdono il confine tra realtà e social, cioè non c'è più un confine, capito? Ci deve essere sempre quel muro, tu devi sempre renderti conto, questo è un telefono, basta, al momento in cui l'hai spento è finito, fine, e poi c'è la vita. Dal momento in cui tu non hai più questo confine, tu ti perdi e quindi finisci in challenge spaventose, messaggi strani, cose brutte del web che sono la parte negativa, bisognerebbe sensibilizzare e proprio secondo me passare questo messaggio del telefono acceso, bene, telefono spento, bene, basta. Esatto, è uno strumento, non è il fine. Esattamente. Mezzano fine. Sì. Ok, va bene, ti ho trivellata di domande su questo, ho un po' insistito però, no, no, è importante, è importante e secondo me c'è anche una bella cosa che hai detto che mi permetto di sottolineare che hai anche una vita al di fuori, no, del tuo essere una creator perché un po' c'è quest'idea che chi è tanto specializzato, ha tanti follower, vive lì dentro e non ha una vita al di fuori, invece è tutta l'altro. a me prendono spesso in giro magari i miei amici dicendomi che sono sempre al telefono e io tutte le volte la mia, proprio la prima cosa faccio, ok, tira fuori il telefono e fammi vedere quanto utilizzi il telefono perché c'è l'orario di utilizzo. Ti giuro, non mi è mai capitato che una persona diciamo, non avesse più riutilizzo di me, sempre, tutte le volte magari io ho due ore e loro ne hanno quattro. Io dico, tu che hai fatto? Cioè, in quelle quattro ore magari io in due ore ho lavorato, tu in quattro ore che hai fatto? Boh, ho guardato, ho detto, vedi, pensi che uno perché fa il creator, io proprio perché al mio lavoro magari ci sto a meno perché dopo un po' mi dà fastidio, cioè ovviamente è il mio lavoro quindi non mi va visto che lo devo fare per forza, quando posso non farlo non lo faccio. Certo. Quindi in realtà secondo me questa è una cosa, è uno stereotipo dell'influenza. È un mito da sbatare. Sì, non è vero, non sto sempre al telefono, cioè lo direi anche perché è il mio lavoro in teoria, però dopo un po' non mi va più. Vabbè, ci credo anche perché adesso che mi hai detto quante ore si passa sul telefono andrò a vedere io ma io chiaramente usandolo come te per lavoro avendo un lavoro che è totalizzante effettivamente le ore che ti faccio sopra sono massacranti sotto certi punti di vita. Quindi quando finisci di fare quello che devi fare basta, lo voglio vedere, lo tiro, lo nascondo, lo metto dentro un pozzo. Esatto. Quindi tu in realtà passi un numero di ore limitate, cioè quanto passi a lavorare dietro i video che posti? Perché poi sono video molto brevi, no? Cioè ci metti tipo due ore per prepararne uno? Eh sì. No, guarda io indicativamente proprio? Indicativamente un quarto d'ora. Ah, quindi sei rapidissima. Sì, non è un lavoro di editing, quindi è solo, perché TikTok lo fai in automatico, tu registri, stop, quindi non lo devo montare. I video di solito quando vado a fare il video è perché avevo già l'idem, me la sono scritta nelle memo del telefono, quindi ho già il testo, e poi io rifaccio sempre one shot. La prima che faccio è quella, perché penso se mi è venuta così ci sarà un motivo, quindi tengo quella. E poi lo metto da parte, se mi piace lo posso, se no lo tengo da parte, infatti ho un sacco di bozze che ancora non mi convincono messe lì. Quindi sei una che va tanto sull'improvvisazione, anche no? Perché sei one shot. Molto di più sull'improvvisazione piuttosto che, cioè i miei video migliori sono quelli veramente che ho, stavo sul letto, ho pensato questa cosa, mi sono alzata, infatti in tanti video sono struccata in pigiama, perché ho pensato in questo momento è forte questa idea, magari fra tre giorni no, facciamolo adesso così almeno è più spontaneo. Però bucchi lo schermo, devo dire, perché se sono spontanei ti vengono proprio grazie mille. No, è vero, non avresti neanche tutti questi follower chiaramente, se così non fosse. Senti, io ho letto uno studio, scusami se torno su una cosa un po' noiosa, ma questa è la deformazione, uno studio secondo il quale l'86% dei giovani americani sogna di fare l'influencer, no? Perché se lo immagina come, vabbè se lo immagina è un vero e proprio lavoro e un po' si stacca dalla prospettiva reale di tutti quelli che sono i lavori magari meno belli da raccontare, più pratici, meno social, quindi l'avrebbero occupazione, ma chiaramente tutti vedono l'86% è veramente un dato altissimo, stiamo parlando di quasi nove ragazzi su dieci che sognano di fare questo, tu che tipo di consiglio ti sentiresti di dare a chi pensa di fare questo, cioè ragazzi mantenete comunque i piedi piallati al pavimento perché pochi ci riescono, tu stai comunque studiando, hai comunque delle altre vie di exit strategy, chiamiamola così nel caso in cui come dicevamo prima i tuoi follower stanno salendo, ma nel caso in cui un giorno dovessero andare in senso opposto, io non te lo auguro, però immagino che ti sarai creata un'altra via di fuga verso il mondo degli adulti. bisogna essere sempre oggettivi perché sempre la testa tra le nuvole però i piedi per terra in senso sognare in grande però sempre essere realisti, questo è un tipo di lavoro, è un lavoro perché a tutti gli effetti è un lavoro dal momento in cui io posso viverci e mi prende del tempo, è un lavoro che può veramente arrivare in un secondo e andarsene in un secondo, bisogna riuscire a sfruttare finché c'è, sfruttare e non sfruttare in senso utilizzare le potenzialità in senso positivo esatto, in senso positivo utilizzare le potenzialità e magari riuscire a lavorarle in modo tale da farlo diventare una cosa di lunga durata perché ovviamente se riesci a lavorarci bene puoi anche farlo per tutta, non l'influenza non il creator secondo me tutta la vita è complicato fare l'influenza però magari uscire da quel settore e però puoi incanalarti in altri settori che sono possono essere simili con un percorso in studio adeguato comunque non sto dicendo che ovviamente chi fa il tiktoker può fare l'attore però qualcuno che magari ha una propensione per appunto la recitazione il canto studiando al contempo facendo questo percorso magari studiando può tranquillamente secondo me riuscire a infilarsi magari con la corsia un po' preferenziale che non è una cosa bella a dire però alla fine è sempre un merito riuscire le persone a me fastidisce molto quando mi dicono tu riesci a fare le cose perché hai follower quello è sempre un mio merito io ho lavorato per averceli non è facile avere follower ve lo posso dire ho lavorato per averci soprattutto se è così facile perché non lo fai tu fatelo anche tu vedi io prendo la preferenziale prendila anche tu fallo anche tu perché non è così non è così facile quindi io suggerisco sempre a chi vuole fare questo di lasciarsi andare liberarsi dai pregiudizi perché è una cosa che ti blocca molto è la vergogna tantissime persone dicono io faccio video però mi vergogno basta vergognezzi di che mica stai rubando penso fai tu provaci però non può essere l'unica cosa secondo me a cui punti nella vita voglio fare l'influenza studia fa il tuo percorso lavora poi se succede tanto succede all'improvviso io non l'avevo pianificato volevo fare tutt'altro mi sono ritrovata così cosa volevi fare adesso me l'hai l'hai buttata lì in quinto liceo io volevo iscrivermi a veterinaria mi sarebbe piaciuto però poi adesso in due anni mi sono resa conto non avrei mai potuto farlo perché sono troppo empatica avrei sofferto tantissimo cioè veramente troppo sensibile per fare un lavoro a contatto così con gli animali ma no però no piango pure se un cane ha i crampi ha le zampe e però poi mi sono iscritta all'università comunque anche se stavo facendo questo percorso inizialmente riuscivo a gestire sia l'università che che lavoro però dopo un po' mi sono resa conto che facevo male entrambi non riuscivo a dare il mio meglio né in uno né nell'altro quindi mi ho detto tante persone magari si prendono un anno sabatico per non fare nulla per trovare se stessi io prenderò un anno per lavorare mettere da parte lavorare fare cose fare progetti e poi si ricomincia infatti a settembre dovrei ricominciare sto ancora scegliendo la facoltà settembre ho detto vabbè insomma sto scegliendo la facoltà e vediamo un po' che fare però l'idea è quella ovviamente di riuscire a fare entrambe le cose studiare e lavorare proprio per il piano B, C, D e finanziata senti ho visto con un sacco di università un sacco alcune università che sono forse quelle un po' più attenta che cosa succede al di fuori dalle aule universitarie stanno facendo dei corsi dei brevi master per diventare creator e influencer così te la chiedo allo strappo tu pensi che siano completamente fuori strada o sono geniali secondo te? ho paura a esprimermi allora allora mio fratello ti posso dire mio fratello studia giornalismo e io ho sentito a volte durante la quarantena faceva lezioni in casa io sentivo lezioni in cui sentivo i professori dire cose tipo l'influencer la cosa più importante sono gli hashtag quando io non ho mai messo un hashtag in vita mia l'unico modo per crescere di follower è utilizzare tanti hashtag ho fatto sei anni fa sei anni fa esatto secondo me questi corsi sono fichi se sono al passo con i tempi il web cambia tutti i giorni per stare a persona del genere davvero non puoi non puoi studiarlo secondo me perché è talmente in evoluzione che un insegnante non può insegnarlo dovrebbe fare un corso di come si dice di aggiornamento ogni due mesi praticamente quindi è un po' complicato stare al passo con i trend come funzionano le cose pure tweet cioè io per riuscire a capire twitter che comunque sono giovane lavoro con i social tutto quanto ci ho messo un sacco per entrare nell'ottica di come funzionano tutti i vari social le chiavi di lettura il linguaggio secondo me i corsi dovrebbero essere fatti super bene per funzionare dovrebbero essere fatti forse da ragazzi come te che ci lavorano no? perché poi il tema è sempre un po' quello secondo me il formare i formatori è un po' il nodo del futuro ne ho parlato anche quando ho intervistato i pro player nelle puntate precedenti è chiaro che usare il gaming per esempio per imparare altri tipi di materie in una maniera diversa prevede necessariamente una formazione dei formatori se noi abbiamo degli insegnanti che su questo fronte sono su tutt'altro piano è difficile che riescano poi effettivamente ad insegnare come utilizzare i videogame figuriamoci su come diventare influencer su TikTok insomma bisognerebbe poi avere chi di pratica tutti i giorni per avere un insegnamento che sia molto diretto poco filtrato da quella che è un'idea perché poi è il tempo che scrivi un libro e invece effettivamente questo mondo va a una velocità tale per cui non si riesce a stare dietro con la pubblicazione in capace esatto il tempo che si pubblica il libro già sicuramente sono cambiate un sacco di dinamiche che ormai nel libro saranno indietro quindi è molto complicato stare al passo ci può stare al passo secondo me chi lo fa di lavoro chi comunque o magari se proprio non è un influencer gestisce influencer cioè quelli che seguono me comunque io ho un'agenzia le persone che mi seguono secondo me avrebbero tranquillamente le capacità per tenere un corso perché seguono tanti influencer quindi le dinamiche le sanno ci capiscono tanto quanto me quindi possono tranquillamente farlo assolutamente vero c'è qualcuno che mi chiede a che punto siamo col riconoscimento del lavoro da content creator allora c'è una la domandona benissimo no in questo momento c'è in realtà in Parlamento stanno facendo un lavoro di indagine conoscitiva prima di fare le leggi si fa questo tipo di passaggio soprattutto quando i temi sono particolarmente innovativi si creano queste diciamo sessioni di audizioni si raccolgono un po' tutte quelle che sono le informazioni in merito poi si prepara una relazione e quindi so che sono in mezzo a questo tipo di lavoro hanno chiesto tra l'altro anche a me delle persone da indicare perché hanno visto che ho fatto questi tipi di dirette per cui sia i parlamentari che i presidenti di commissione hanno chiesto se avessi delle idee per riuscire a dare un contenuto un po' più fresco per cui so che è in corso è in corso d'opera qualcun altro invece ci dice che sarebbe interessante fare degli incontri negli istituti anche già dalle medie sull'uso consapevole dei social sì è veramente molto importante veramente molto importante nelle scuole si sarebbe la cosa migliore perché è il modo più più diretto per arrivare a più persone contemporaneamente qui mi dicono facendo partecipare anche i genitori dei ragazzi soprattutto i genitori non soltanto i ragazzi sì sì guarda tu ci scherzi ma alla fine l'importanza è il genitore fa la differenza magari il ragazzo può essere istruito su quello che deve fare in caso di ma anche il genitore deve essere istruito su cosa fare in caso di certo certo quindi effettivamente e altra domanda qualcuno mi chiede se a settembre riapriremo l'università sì ovviamente l'aspettativa è quella a settembre di riaprirla in presenza è stato so che è stato per tutti un 2020 complicatissimo un pezzo di 2021 ancora molto difficile le lezioni da remoto non sono state il massimo me ne rendo conto la DAD eh no vabbè perché so che la DAD è stata difficile forse per l'università un po' meno per i ragazzi più piccoli ha creato anche non so se hai avuto occasione di vederlo stanno raccogliendo dei dati sugli effetti psicologici che ha avuto la DAD sui ragazzi sono aumentati i disturbi alimentari i problemi di ebressione di depressione sì io infatti vorrei in realtà ho già convocato un tavolo al ministero su questo però secondo me serve creare delle progettualità però questo me lo dovresti dire tu perché sei giovane io dal mio punto di vista serve provare a creare delle progettualità che spingano ragazzi a ritornare ad essere stimolati perché è chiaro che un anno come questo è stato di compressione guarda proprio proprio su TikTok oggi scorrevo io ho trovato due video uguali cioè di due persone diverse che facevano un video dicendo ragazzi volevo chiedere ma solo io da quando ho iniziato la prima quarantena io a volte non ho voglia di fare di fare nulla cioè dal primo lockdown sono demotivato non mi va di fare niente sono fiacco sono stanco non ho iniziativa e i commenti erano tipo 500-600 commenti le persone dicevano sì anch'io anch'io cioè le persone sono molto demotivate tantissimo quindi secondo me ci servirà proprio qualcosa per ritirare su soprattutto anche i ragazzi perché è proprio brutto vedere le persone della mia età anche più piccole a 17 anni che non hanno voglia di fare niente perché ovviamente dopo un po' ti demoralizzi cioè dopo due anni un anno e mezzo quant'è stai proprio le braccia così no ma lo so mi ricordo benissimo con l'età in cui la socialità è tutto è fondamentale sono per carità poi anche le cattiverie rispetto alle prese in giro per come uno è fatto esteticamente però la socialità è parte il contatto è parte è fondamentale di quello che fai anche le distrazioni che hai col compagno di banco fa tutto parte di un'esperienza che sono poi anni che sono difficili da recuperare però chiaramente la situazione fidatevi che per chi l'ha dovuta gestire non è stato per niente no io immagino bello neanche a cuor leggero dover prendere certi tipi di decisioni sapendo gli effetti importanti che avevano so che in Francia hanno predisposto 10 sedute psicologiche gratuite per i ragazzi fino ai 17 anni pagate dallo Stato sì qui abbiamo fatto una cosa non di questo tipo abbiamo istituito un fondo presso il Ministero dell'Istruzione per far avere dei punti di ascolto con gli psicologi nelle scuole e secondo me non è solo questo però qui sicuramente Cecilia più sul pezzo di me non si tratta soltanto di darti delle ore dallo psicologo si tratta proprio di mettere in piedi una strategia perché non so voi ma io lo dicevo l'altro giorno se non sbaglio è un giorno da Pecora comunque in una trasmissione a vedere i film registrati un anno fa o vedere i concerti io sono un appassionato di concerti vedere questi concerti zeppi questi stadi zeppi di persone tutte attaccate vicino mi provoca una sorta non dico di timore però di timore anche ti capisco perfettamente ma penso sia così per tutti adesso a rivedere magari i miei video di due o tre anni fa in discoteca magari con gli amici restate lì guardo come facevo a stare vicino a tutte quelle persone senza preoccuparmi e poi dico vabbè ma all'epoca non c'era sospetto però adesso non so se ci riuscirei capito adesso proprio l'idea di stare in una stanza chiusa in discoteca piena di persone non so se ce la farei perché il cervello ormai è settato sul fatto che stare vicino alle persone comporta il fatto di poter prendere covid non covid malattie cose che prima magari mai non mi sono mai soffermata a 18 anni a dire ora prenderò una malattia grazie questi cavoli perché non sei un'appassionata di film sui contagi perché in realtà ci sono questi film tipo virus letale che insomma uno negli anni passati ha guardato quindi proprio non sono una che ha paura delle malattie le cose invece adesso un po' d'anzietta ce l'hai alla fine sì sì ce l'hai per questo che dico secondo me non è soltanto le dieci sedute dallo psicologo serve proprio una strategia di lungo respiro perché ritornare riprendere gli spazi di quella che consideravamo normalità lo stare a meno di un metro e mezzo comunque non avere la tendenza a calcolare lo spazio di droplet che è il metro e mezzo che deve avere dalla persona sono cose per cui servirà del tempo però io stavo pensando in settimana nell'ottica di dover parlare con te che potrebbe essere anche carino lanciare una challenge da parte mia su io ce l'ho un canale tiktok ovviamente ma sarebbe magari carino provare a pensare una challenge non nell'ottica del chiedere quanto siete tristi ma proviamo a trovare anche un modo di raccontarci per superare il blocco emotivo e andare oltre penso che stiamo tutti combinati veramente male emotivamente è proprio il momento in cui tutti i malesseri di tutti stanno coincidendo nello stesso momento perciò perché si sente un po' la fase finale chiaramente che il piano vaccinale si ha l'idea che insomma verso l'estate si dovrebbe cominciare a vedere più le aperture un agosto di vacanze di normalità diciamo chiamiamola normalità anche se poi insomma tutto ci ha insegnato 2020 anche a ridefinire il senso di normalità la prospettiva di poter arrivare fino a lì comincia a far emergere anche i timori che magari prima una che si è tenuto dentro e le ha un po' soffocati con l'ansia di superare più che altro il momento di contagio molto forte per cui a me piacerebbe provare a lanciare questo tipo di challenge poi insomma bisogna vedere che tipo di seguito avrebbe accanto poi una serie di progetti secondo me anche il fatto che si ritorni pian piano a fare sport spinge automaticamente a riuscire a riconquistarsi quei centimetri di propria libertà e di dipendenza per cui su questo e ho poi un'ultima domanda dopodiché non abuso più della tua gentilità ma che scherzi guarda un piacere un piacere sei stata una grande allora io vi sono fatta quest'altra idea sui ragazzi c'è un grande bisogno di coinvolgimento anche rispetto a quelle che sono le tematiche della politica o comunque di che cosa sta facendo il governo il Parlamento io ho lanciato sul piano nazionale di ripresa e resilienza il PNRR che è quello legato al recovery quindi alle risorse i famosi 200 miliardi che verranno stanziati dall'Europa per il paese per riuscire nella fase successiva a riprendersi ho lanciato un questionario online dura ancora fino a domani quindi lo dico anche qui l'ho lanciato anche se eravamo in una fase abbastanza diciamo conclusiva della redazione del piano poi piano significa mettere per scritto tutto quello che ci vorremmo fare con queste risorse da lì a farli diventare progetti ci saranno ancora dei passaggi perché poi si esplica in sei anni però ci teneva ad avere un indirizzo dai ragazzi dai 14 ai 35 anni che sono un po' il target del ministero mi sono arrivate circa 12 mila risposte per un questionario che comunque riguardava un piano nazionale quindi non proprio una roba di una leggerezza e una freschezza unica 12 mila risposte in una settimana secondo me il feedback è stato bello e positivo io ho visto che a metà della settimana tra le maggiori risposte che mi hanno dato i ragazzi che il 51% di quelli che hanno risposto non avesse proprio idea neanche di che cosa è il PNR di che cosa si ricovera di che cosa preveda per loro a livello di quali siano i pilastri transizione ecologica digitalizzazione chiaro non è colpa loro siamo noi che dobbiamo riuscire ad arrivare a loro ma secondo te come dovrebbe fare la politica per riuscire ad agganciare un po' di più i ragazzi in senso positivo non agganciarli tipo ad escarli ma riuscire a renderli partecipi cioè le consultazioni possono essere positive aprirsi canali io mi coperto questo di Twitch proprio per riuscire anche a entrare in contatto in una maniera diversa TikTok ciò che lo trovo un attimo ancora più complicato piano piano non ti preoccupare se ti servono ripetizioni cose ci penso io faccio da te il master ci penso io un foglio un fazzoletto ho scritto brava allora c'è tantissima ignoranza secondo me tra i ragazzi me compresa i ragazzi so pure io sul piano della politica io di base sono molto fortunata perché a casa mia comunque se ne parla quindi è normale che magari a cena ci sia la tv accesa si sentano dibattiti e se discuta magari a casa cosa che non è scontata magari in tutte le famiglie in tutte le case quindi mi ritengo molto fortunata il problema sì è che bisognerebbe trovare un modo coinvolgente diciamo per riuscire a magari diffondere un po' di informazioni che magari potrebbero risultare scontate ma scontate non sono visto che appunto c'è molta ignoranza sull'argomento nella mia fascia d'età più piccoli anche un po' più grandi i social secondo me sono il modo migliore per comunicare perché li usiamo tutti in questo periodo siamo tutti a casa quindi che fai se hai il telefono però bisognerebbe trovare una chiave secondo me che può essere quella non dico ironica perché è complicato comunque mischiare politica ironia bisogna trovare magari delle tipo te comunque cioè hai trovato una chiave figa in senso è coinvolgente come modo comunque magari parli con persone del web dei social e comunque stiamo sempre parlando di queste tematiche queste cose possono essere interessanti magari se approcciate nel modo giusto quindi io direi che i social sono un metodo fortissimo bisogna trovare una chiave bella intelligente cioè bisogna proprio studiarsela bene trovare delle personalità tipo tipo la tua delle persone magari che si facciano portavoce persone alla mano passami il termine non boomer davvero perché se no perde credibilità il tutto e aprire canali twitch tiktok instagram trovare dei metodi per coinvolgere per sentire anche cosa ne pensano i ragazzi perché poche volte magari ci viene chiesto veramente cosa ne pensiamo cosa vogliamo fare di qualcosa poche volte ci sentiamo come se fosse importante quello che decidiamo pensiamo il nostro voto il nostro pensiero quindi servirebbe di farci sentire forse più più coinvolti più responsabili più responsabilizzati cioè perché non ci sentiamo come se le nostre decisioni fossero importanti perché vediamo tanto non cambia esatto tanto non cambia niente hai capito mentre invece è importante perché comunque il futuro siamo noi e le nostre mani dobbiamo prendere posizione dobbiamo informarci quello che diciamo è importante bisogna che qualcuno ci faccia sentire considerati certo c'è qualcuno che chiede se in questo contesto il voto ai sedicenni può essere un incentivo secondo me sì io già passata legislatura avevo firmato la legge per il voto ai sedicenni Camera Senato secondo me se uno ha questo onore come dicevo prima si sente anche addosso il peso dell'onore di dover andare a votare ti informi prima ti informi prima e quindi hai più tempo per crescere con una formazione cioè comunque sono due anni in più che due anni sono tanti per informarti e tutto quanto ti responsabilizzi prima ti informi prima quindi ti mangi più prima però sotto certi punti di vista anche no perché se un po' la tendenza in questo paese ma lo dico anch'io sono uscita di casa molto tardi perché ero stata incanalata in quel tipo di percorso fai l'università poi esci e lavori due anni anche perché è difficile trovare il lavoro quindi io ho tanti amici tutti i miei amici che vivono da sole perché lavorano tutti quelli che studiano stanno a casa perché comunque è complicato gestire le due cose però essendo difficile trovare un lavoro è anche difficile andarsene perciò visto che l'Italia è complicata lavorativamente certo c'è un problema di incrocio domanda offerta c'è secondo me un problema di orientamento rispetto a tutte quelle che sono le nuove professioni a volte ragazzi studiano dei percorsi io lo dicevo l'altra volta prendendo anche il mio caso io ho studiato giurisprudenza senza avere la certezza di che cosa avrei voluto fare dopo forse con un orientamento un po' più concreto una programmazione rispetto a quelle che sono anche le possibilità occupazionali se io avessi saputo che al termine da parte mia di giurisprudenza ci fossero stati come ci sono più avvocati che panettiere forse avrei deciso di fare il panettiere siamo informati malissimo su queste cose anche me l'orientamento sono fatto malissimo uscita dal liceo veramente così che faccio dove vado poi ogni facoltà io non sapevo dove mi portasse cioè in senso ok studio questa facoltà sì ma cosa si fa dopo quali sono tutte le professioni quali sono i pro e i contro di queste professioni che cosa rischio cioè qualcuno mi può spiegare perché capito quindi è nessuno nasce sapendo già le cose quindi è complicato uno si informa ma non posso sapere tutte le facoltà a tutto no poi uno ha la fortuna di avere una famiglia che sta dietro che magari sta nell'ambito dell'orientamento professionale e ti sa dire guarda tra il 2023 e in avanti ci si aprirà il mercato per le discipline matematiche scientifiche tecnologiche per le ragazze allora uno lo sa qualche anno prima si scrive certo si cimenta si cimenta ma questo è anche un tema che ho toccato molto spesso con le ragazze soprattutto con cui ho parlato dai 13 anni in poi si perde un po' la passione verso le discipline matematiche inaspettatamente però forse anche lì andrebbe fatto vedere il lato umano che c'è perché c'è anche un lato umano che è notevole una persona che impara a costruire un'arto artificiale perché non lo sanno perché non c'è un professore che viene là e ti fa ma lo sai che la matematica perché io sento persone dire a me le equazioni di secondo grado mica mi serviranno per fare la spesa sì ok ma tutte le cose che si possono fare con la matematica la fisica la scienza che ti sembrano inutili ma in realtà ovviamente non lo sono perché sono alla base di tutto quello che abbiamo intorno però non c'è nessuno che ti dice puoi fare questo questo e questo ed è grazie a quello che stai studiando che possono essere fatte un miliardo di cose che noi non sappiamo quindi sì sminuisce tutto è una cavolata ma dai che è matematica che mi frega a me siamo veramente disinformati c'è una disinformazione è allucinante anche io cioè la prima proprio no no ma io sono partita proprio dall'interenza io stessa sono andata al liceo così e poi sono andata a giurisprudenza con un po' di incoscienza di fondo mentre invece avevo un po' l'idea di fare la designer di interni pensate che forse adesso avreste chissà che invece effettivamente adesso questo tipo di lavoro forse avrebbe funzionato anche di più però all'epoca effettivamente gli orientamenti che facevano a scuola veniva all'università giusto che stava nel tuo comune io ho la fortuna di stare in un comune molto piccolo rispetto magari a chi sta a Roma Milano Torino e quindi le università che ti vengono a fare l'orientamento sono quelle che ci sono sul territorio non è che ti viene no noi Roma e vabbè a Roma però siete fortunati perché ci sono delle università incredibili molto valide che hanno dei corsi anche quelli di marketing digitale comunicazione social però è complicato scegliere proprio perché magari non lo sappiamo perché il ventaglio è grande esatto proprio perché ce ne sono tante sono molto valide molte sono valide però non ti educano diciamo non ti informano quindi non lo sai prendi un po' a caso fai vabbè questo mi piacerebbe forse infatti tantissimi miei amici hanno cambiato facoltà tante volte anche io avevo iniziato lingue non so che pro non so dove ma lingua è sempre utile perché comunque le lingue ti servono ma è quello che ho detto anch'io è quello che ho detto io ho fatto utile vabbè qualcosa mi servirà è sempre utile però è sempre utile è sempre utile alla fine sapevo che fare ho fatto utile però magari qualcosa che mi piace di più e che è più utile ci sarà cioè non devo studiare qualcosa perché è utile devo studiare qualcosa perché mi appassiona perché voglio fare un lavoro collegato a quello che mi piace che mi rende felice perché studio perché vabbè magari oh lo spagnolo serve sempre sì però chi c'è fatto certo no 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 capisco benissimo ci sono ancora due domande che sono off topic che direi dirette a me ma io le rispondo ben volentieri carissima Fabiana come vedo il futuro per chi usa la cannabis terapeutica questo dipende immagino dalla delega che mi è stata affidata sull'antidroga insomma su questo mi sono già esposta con abbastanza franchezza per me ci sono dei non per me è oggettivo che ci sono dei vincoli burocratici enormi che fanno sì che l'uso di cannabis terapeutico o comunque di farmaci a base di di cannabis di cannabinoidi non riescano ad arrivare a tutti non in tutte le regioni perché il sistema sanitario è molto differenziato quindi ho sentito anche i genitori di ragazzi della mia età che sono obbligati insomma ad andarle a reperire in altre maniere credo che uno stato si debba mettere nei panni di chi soffre andare oltre le ideologie destra-sinistra e provare a dare supporto a chi sta male perché è un po' troppo comodo legiferare fare tutta la discussione quando poi sono gli altri che stanno fuori a soffrire e devono vedere ogni giorno la difficoltà l'altro giorno stavo parlando con un amico che conosco da anni ma non mi ha mai raccontato di sua madre che ha l'alzheimer quindi sostanzialmente mi ha detto mia madre fisicamente c'è ma è da dieci anni che non c'è lei prende dei farmaci che hanno in parte del contenuto di THC diciamolo così per insomma per essere un po' chiari quando riesce ad avere farmaci di questo tipo è tranquilla altrimenti è difficile da gestire molto agitata ha un senso di confusione perché non sa dove si trova non si ricorda dove si trova ecco quando ho sentito una persona che a me è cara dire una cosa del genere mi sono ancora di più convinta rispetto al fatto che almeno un dibattito su questo andrebbe aperto spogliandosi proprio degli abiti di io credo che una cosa sia brutta e l'altra sia buona andando oltre e la seconda domanda è che cosa ne penso del disegno di legge ZAN sono favorevolissima come si fa a essere contraria a quel disegno di legge insomma l'omitransfobia ragazzi è un tema di violenza verso questi ragazzi che sta diventando un allarme sociale io non credo che stendere i diritti ad altri riduca dall'altro lato i diritti di chi già li ha si tratta di estenderli a chi non è tutelato quindi io non capisco tutto questo questo cinema ideologico perché è un cinema ideologico che è stato tirato da chi è contro questo disegno di legge mi sembra insomma mi sembra il minimo io non capisco proprio come si possa essere contro onestamente anch'io va bene ok vabbè perché uno vuole essere contro a tutti i costi perché così si dà un senso alle appropriazioni bastian contrario esatto a volte si trova il proprio ruolo in politica facendo il bastian contrario però anche qui proviamoci un attimo a metterci nei panni di chi invece attende che il Parlamento faccia una discussione seria perché l'estensione di diritti non vuol dire la riduzione degli altri non è che sono vasi comunicanti per cui se se io metto di più di qua si riducono di là non è una coperta che la tiri e da una parte scopri cioè al massimo aggiungi un pezzo no esatto al massimo aggiungi un pezzo hai fatto un esempio bravo e si vede che fai i video brevi sai spiegare in maniera semplice le cose va bene io non ti rubo altro tempo ti ringrazio tantissimo sarà un piacere veramente anche per me so che non hai un canale su Twitch ma lo aprirò sì sì mi hai motivato molto ma sono contenta di sentirtelo dire io ti ringrazio e proverò a fare questa challenge allora su TikTok che secondo me può essere un'idea molto positiva e ai suggerimenti sono qua grazie grazie a tutti quelli che ci hanno seguito un saluto e buon sabato a tutti ciao a tutti un bacione un bacio ciao ciao